Ultima lettera di Carlo Prina dal campo di Fossoli la sera prima della strage del 12 di luglio del 1944. 11 luglio 44. Mia cara Elena, mie care bambine, per informarvi che domattina partiamo, non sappiamo per dove. Pensatemi sempre, come io sempre vi ho nel pensiero e nel cuore. Vi bacio forte, forte, vi stringo al mio cuore. Il vostro Carletto, papà. Salutami tanto tutti. Con me ci sono Passerini, Guarenti, Messa e Caglio. L'attività clandestina di Carlo Prina, che portò al suo arresto, fu quella di reclutare giovani militari e nonna che all'indomani dell'armistizio si rifiutavano di servire il paese occupato dall'esercito tedesco, ormai nemico. Il paese in quell'ora decisiva aveva bisogno di giovani coraggiosi e preparati da inserire nelle fila dei raggruppamenti partigiani. Così Carlo Prina, ricco dell'esperienza maturata da militare, si occupava di avviare le montagne e di inserirli nelle varie formazioni. Tra le informazioni fornite dalle figlie colpisce la seguente, che documenta in modo quasi visivo il fatto che egli fu tra quei condannati del secondo gruppo che tentarono di ribellarsi inutilmente. Infatti, a fine luglio 1944, la moglie del colonnello Panceri mostrò a nostra madre un pezzo di tessuto trovato infilzato sul filo spinato che circondava il poligono di tiro di cibeno. La mamma riconobbe quel pezzo di stoffa come appartenente all'abito di nostro padre, il quale aveva tentato una fuga in estremis, ma è stato colpito a morte e trascinato poi nella fossa. L'immediata richiesta di informazioni al comando tedesco ottenne solo un'attestazione del trasferimento di Carlo Prina in Germania e la smentita della fucilazione a Fossoli. Come molti altri dei 67, anche i familiari di Prina ebbero la conferma ufficiale della morte del loro congiunto solo dopo il 25 aprile 1945. Di Carlo Prina rimasero alcune lettere sia clandestine sia autorizzate. Tutto il resto, compreso il triangolo rosso, fu posto nella cassa della mamma alla sua morte avvenuta nel 1980. Nel Museo della Resistenza di Milano, in via Borgo Nuovo, si trova l'originale del documento rilasciato dal comando tedesco. Grazie. Grazie.